Ha fatto una polemica del tutto sbagliata e fuori contesto, ma soprattutto priva di un riferimento oggettivo. Nessuno ha mai parlato di fase già, mi ero permesso di prendere in giro un po' d'Urigon ieri per la passeggiata che abbiamo fatto al Molo Beverello, ma sono esponenti di governo che non hanno molta ironia e sono molto nervosi in questo periodo. In ogni caso la passeggiata a cui mi riferivo era quella al Molo Beverello, che come sapete è un'opera finanziata dal governo Gentiloni su sollecitazione della regione Campania e un cantiere consegnato nel 2019 e poi riaperto nel 2020. Questo è tutto.